ragazzi guardate questo speriment, è vero ho scoperto, non vedo niente ragazzi ma guardate, io stavo in questo modo i miei vannici, i miei vannici, ok? non ho gli occhi qui, ok? e ragazzi prendo l'ancione, 4 ovari pensate che questo è sul top? no, ok? o bottom? no, ok? o bottom? no, i sciargo real sciargo, ok? very difficult, i sciargo no, i sciargo i rimu spred, ok? i non vedo niente ok? 4 ovari io ragazzi 4 ovari o esaminate impossible esperiment bye ciao ciao ciao